Un buongiorno a tutti! Morino, mi sembra di avere lo sci non ce l'ha. Giornata bella, siamo alla chiesa di Campello Monti, una preghierina prima di partire per il capezzone. Potete vedere ancora quanta neve è rimasta qua a Campello. Realmente un bello scenario, una bella mattina e adesso ci aspetta la faticata. Filippo, vuoi salutare qualcuno? Ciao Massimo! Signori, siamo all'alpe piano di via. Ora, potete vedere Filippo e Moreno che oggi è un po' costipato dopo la sciata di ieri rimane un po' indietro ma niente di grave. Adesso ci accingiamo a mangiare un arancio e poi proseguiremo per il laghetto del capezzone. veramente uno scenario incredibile, Moreno vuoi salutare qualcuno? larınıcessorendamente. Poi, sono azzurri! La Cattola a laывать e cioè arezzurri! Poi? Puoi? Buon caso! Grazie a tutti.